Vostra figlia è morta mentre lavorava, lei e suo marito, come ve la spiegate questa cosa? Come potete accettarla? No, non l'accettiamo, non l'accettiamo perché è morta proprio sul lavoro, ma no perché è morta sul lavoro, c'è un vero motivo, no? Non l'accetti perché non è stata una fatalità, è stata per me, scusa se la dico, questa parola è stata omicidio, perché è dovuta alla manomissione del macchinario dove sono state tolte tutte le sicurezze e il macchinario era manomesso. Ma è vero che Luana aveva detto di avere paura proprio della sicurezza sul lavoro? No, questo è sbagliato perché lei non l'aveva mai detto, diceva, si lamentava, solo che i macchinari erano mezzi tronchi, li chiamava mezzi tronchi perché si fermavano ogni tre per due e un macchinario manomesso purtroppo faceva di questo, ma lei non aveva paura, aveva paura un pochino prima, perché 20 giorni prima era stata strisciata da quella famosa asta che hanno aggiunto, tolto quella in dotazione del macchinario, un Karl Mayer, era un macchinario tedesco, e gli disse, babbo, sai, dice, ma strisciato, per fortuna ho fatto un passo indietro, e dice, Luana, stai attenta, però sai, babbo, non siamo mica 60 anni fa, ci sono anche le fotocellule ora, dice, se t'avrebbe presa per davvero quella macchina si sarebbe fermata, e lei rispose, e sì, babbo, e se no ci andava a lavorare, ma lei, rivolgendosi alla titolare. Lei dal primo giorno ha detto, voglio giustizia, no? Come stanno andando, come sono andate le cose fino a questo momento in tribunale? Ecco, sì, voglio giustizia, perché, come sappiamo tutti, la sentenza di mia figlia, la seconda preliminare del penale, che io la chiamo legge di comodo, perché c'era il dolo, e hanno emesso solo un omicidio colposo, dove hanno dato un anno e sei mesi al signor faggi, due anni alla signora Coppini, giudizio di pena sospeso e più una multa di 10.300 euro. Sì, sì, sono i titolari dell'azienda, sì, sono i titolari dell'azienda, sì, dove anche quel giorno, quando mio marito e il compagno andarono, gli avevano detto se volevano andare a vedere la macchina, dove era successo l'incidente, ma c'era ancora il sangue a terra. Non hanno mai chiuso un giorno solo, il giorno di funerale anche aperti, e questo è perché siamo in Italia, io la chiamo legge di comodo, hanno emesso questa sentenza, ora il 23 maggio abbiamo la causa contro il manutentore, perché lui ha scelto il rito ordinario, perché sai com'è? Si arrampicano sugli specchi e dicano io non sono stato, io non sono stato, loro hanno patteggiato i titolari, tra virgolette, quindi fanno questo gioco qui, ed è per questo che io la chiamo legge di comodo e le cose devono cambiare.